Musica Si chiude con un'altra goleata per l'atletico Anzio Lavinio insieme al capitano Mastofrancesco e Totisco Mastofrancesco è ormai un monologo questo Anzio Lavinio c'è più l'amarezza di aver perso punti in precedenza o veramente questa squadra c'era da aspettarselo questo cammino? Noi ce l'aspettavamo, non ci aspettavamo i risultati dell'andata perché comunque abbiamo perso dei punti che dovevamo portarli a casa il girone di ritorno lo dimostra perché le abbiamo vinte tutte, abbiamo preso pochi gol, fatti tanti, quindi dimostra che la squadra c'era, abbiamo preso alcune partite forse troppo con leggerezza sicurezza che a volte si crede di avere invece comunque stiamo facendo bene tutte le gare, speriamo di continuare così. Ecco, quando si riesce poi a giocare con molta disinvoltura per le avversarie veramente poca cosa non le lasciate proprio rintanate neanche nella loro metà campo addirittura nella propria area e quindi farle oltrepassare i due metri diventa per loro difficile Beh, è normale che quando comunque si va sul tanti gol, giochi con più sicurezza tutte le cose riescono, c'è facilità tranquillità, quindi diciamo che è tutto più semplice, quindi la sicurezza viene e lì non hai più niente da perdere e te la giochi tutta e le vai a prendere alte. Quando ci prendono queste partite veramente non ce n'è per nessuno A questo punto bisogna soltanto attendere qualche avversaria un po' più timorosa, forse verso la fine della stagione si avrà la possibilità forse di attendere con molta ansia questa prima in classifica Sì, noi siamo pronte e ovviamente faccio una battuta aspettiamo un passo falso della prima perché adesso abbiamo recuperato oggi questa partita, quindi abbiamo una partita in meno e siamo comunque molto vicini alla prima e ovviamente così dovremmo essere a cinque punti, no Marzia? Dalla prima adesso siamo a quattro, quindi ci siamo ripromesse di vincerle tutte quanto sono rimaste e di giocarcela comunque sempre, ogni partita a prescindere dalla prima Riuscite ad avere ancora così tanta forza in un campionato estenuante perché quest'anno la stagione è veramente stata lunga? Sì, diciamo che le squadre nel nostro girone diciamo più o meno siamo tutte sullo stesso livello siamo partite almeno su tutto lo stesso livello, poi chi si è persa per strada, chi è, però comunque si è stato molto faticoso e infatti come ha detto il capitano all'inizio abbiamo perso quei due o tre punti che a quest'ora potevano servirci per stare un po' più tranquille però ripeto anche noi ci prepariamo e siamo forti perché siamo forti siamo un gruppo molto unito e questo ci permette di anche sul campo di dimostrarlo Ecco un concetto con gli addio da parte della Dodisco ma non proprio un'analisi del campionato perché ancora manca circa un mesetto poi c'è la fase quella che riguarda un po' la Coppa veramente ci sono state queste squadre che meritano la posizione in classifica o anche il fatto di questa squadra ritirata ha messo un po' cambiato l'atteggiamento di questo campionato No beh io penso che la squadra che si sia ritirata sia con tutto rispetto comunque influente perché chi deve stare nella classifica alta ci sta secondo me è una classifica più o meno veritiera nel senso che chi sta lì se lo merita sono abbiamo incontrato belle squadre che come noi sanno difendere sanno attaccare quindi secondo me è una classifica veritiera non non per noi perché comunque veramente abbiamo perso punti però insomma un bel campionato le squadre stanno al posto dove devono stare non per noi non per noi Grazie a tutti.